Sì, una giornata già di per sé straordinaria, un recupero di grande qualità degli spazi dedicati all'Aleopardi, l'Orto, la struttura e svita dal FAI in collaborazione con la Regione, con tanti soggetti privati, intervento di altissimo livello, illuminato dalla presenza del Presidente della Repubblica che non ha fatto mancare il suo sostegno, la sua vicinanza alla nostra Regione, a questa comunità in un momento così importante. L'ha affrontato la giornata come sempre con quella curiosità e quell'affetto che fanno rendere ogni momento col Presidente della Repubblica sincero, una vicinanza alla nostra Regione che viene confermata ancora una volta e devo dire che anche la presenza del Ministro alla Cultura, Franceschini, che già tanto ha fatto nel mandato precedente a favore di questa comunità della nostra Regione, è stata anche l'occasione per ringraziarlo e per fargli in bocca al lupo per l'impegno che ha appena avviato. Il Presidente della Repubblica è stato soprattutto il Grazie per quanta attenzione mette ai nostri confronti e nel caso più ampio, come gran parte delle iniziative culturali di alto spessore del nostro Paese trovano l'appoggio e sostegno anche economico e concreto dello Stato.